Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Amici di Twitch come state? Spero tutti bene Buonasera Buonasera Spero che va? Aspetta un attimo e mi apro Twitch Buonasera Nino Come stai? Bene Tu come stai Daniel? Addio Stiamo in camper Stiamo facendo mega mega passi avanti A proposito Ma l'avete finito? Seguici su Instagram A che punto siete? Allora Stiamo facendo finalmente l'esterno Ho iniziato a stuccare Anzi ho quasi finito di stuccare Domani toccherà scarta vetrare E poi in settimana iniziamo anche a verniciare Perché chi ci ha visto in giro Raduni, non raduni, incontri Gente che ci ha venuto a trovare Sa che il dentro è bellissimo Quasi perfetto Pronto, manca poco Qualche copertura qui e lì Ma da fuori è davvero una gran cacata Ma come lo fai? A spruzzo o a pennello? Eh allora Mi sa che il primer Vado, lo faccio rivedere Questa è la cucina Ma l'hai fatta tu sta cosa in legno? Bellissimo Ha già fatto tutti Ha già fatto Qua ci stanno le batterie L'inverter sotto Seguiteci su Instagram Due bichelloni C'è tutto Neccia a voi Accidenti Eh Nino se vede che non ci sei qui Eh Sjornino 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 che mi combina Mamma mia Neccia È belli Ok mi metto da parte E ti lascio la scena Daniel Va bene A dopo A dopo Belli miei Un attimo che mi connetto a Twitch Pure io così leggo Leggo la chat Una domanda Dove eravamo arrivati l'altra volta Con la teoria dell'analisi? Io sempre questa cosa chiedo Se lo ricorda qualcuno Per vedere anche se qualcuno ha seguito Eh certo Facciamo Anzi fare le domande A trabocchetto Vediamo se sono preparati Sono arrivato anch'io in chat Buonasera Mauro Sono arrivato anch'io in chat Ok Feedback loop Gello Ok Bella miei Allora ditemi un po' Dov'è che siamo arrivati l'ultima volta Nino tu te lo ricordi? Eh Eh Noi dobbiamo andare a ricacciare La registrazione Ahimè Non mi ricordo se era RSI Aitiano Aitano Aitano scrive RSI Sì Dici Ok Ok Eravamo arrivati all'RSI Quindi manca il MACD Ok sì che l'RSI era lungo Ciao Jimmy Allora Ok Datemi tre secondi Mi riempio il caffè E nel frattempo vi parlo Facciamo Facciamo questa versione Tre secondi di podcast Bene E avete visto che bell'affondo di mercato Eh Nino? Quanto ne avevamo parlato? Quanto l'abbiamo anticipato? Eh Effettivamente l'hai sempre detto Che prima La domanda è Eri pronto? Eravate pronti? Come lo son stato io Che Non avevo neanche un altcoin Tutto il capitale in USDT Da diverse settimane Questa è la grandissima domanda Perché A voglia io a dirlo Vorrei avere un feedback Vi leggo in chat ragazzi C'è qualcuno Qui in mezzo Al cui Al cui Al quale Non so come si dice Comunque Che Che ha avuto Qualche effetto negativo Dal dump Del tipo Possedevate Altcoin Durante questi ultimi Quattordici giorni Se sì In che quantità Di percentuale Rispetto all'intero capitale Questa è un'altra domanda Noi spesso e volentieri Abbiamo parlato Della alta marea In bitcoin Bassa marea In crypto Alta marea In USDT Bassa marea In crypto Crypto intendo altcoin Quindi bitcoin Altcoin Stablecoin Crypto In generale Adesso siamo Nell'alta marea In stablecoin Non esattamente La stablecoin Non stablecoin Di luna Sicuramente avrete letto 500 miliardi Di testate giornalistiche Titoli Video youtube Articoli telegram De tutto De tutto E di più post facebook Probabilmente pure su instagram Twitter Twitter è pieno Discord Medium Reddit Cioè ovunque Ovunque USD La possiamo dichiarare Praticamente morta Non morta Perché magari Non possa Recuperare Il valore Di un dollaro Ma morta Perché Non può recuperare Il valore di un dollaro Se nessuno ci crede Saprete Se non l'avete sentito Lo ripeto un attimo Anche nel nostro gruppo L'abbiamo scritto Luna È Supportata Allo standard Dell'UST E l'UST Allo standard Dell'UNA Ecco che Un sottostante Volatile Per una valuta Che dovrebbe essere stabile Qualche problema C'era Due settimane fa Se non sbaglio Non a caso In Crypto Mystery In Master Abbiamo parlato Del fatto Che non Non era sostenibile Abbiamo anticipato Di due settimane Questo crawl Che non era Assolutamente sostenibile Il giro di capitali Che c'era Su Anchor Protocol Riguardo allo staking E riguardo Al dare la liquidità Al mercato C'era questo feedback loop Infinito Per cui potevi Mettere in staking Prendere il token Metterlo E rimetterlo in staking E riprenderti Degli asset Con del collaterale Facendo il lending Praticamente Tu dai in lending È la stessa cosa Che farebbe un prestito bancario Ci guadagni una percentuale Con quella percentuale Rimetti in staking Dallo staking Guadagni E rimetti Cioè capito Questo feedback loop Infinito Ovviamente Il capitale All'interno Di queste monete Era abbastanza pompato Artificialmente Da gente appunto Che faceva questo feedback loop Con grandissimi capitali Effettivamente C'era troppa offerta E pochissima domanda Ora ovviamente Con il crollo del mercato Tutto il resto Si è un po' accentata Questa situazione C'è stata una vendita A cascata Che ha portato A ribasso Il valore Di una stable coin Come UST Ovviamente la gente Vedendo che non è una stable coin Non si è più fidata Quindi ha ricacciato I capitali Ed ecco che UST Ha toccato i 20 centesimi Oggi una cosa del genere Mentre l'una è arrivata Addirittura sotto al dollaro Eravamo a 120 Ha fatto almeno 99% Se non di più Meno 99 Quasi virgola 99% È molto interessante Molto molto interessante E questo appunto Ci riferiamo a questo Quando parliamo Di gestione del rischio Perché quando il mercato Pompa 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 Pare che non ci sia Di rischio Ma quando diciamo Che le altcoin Non sono da affezionarcisi Sono da vendere Al momento giusto Da mantenere il distacco Intendo Intendiamo Non sono l'unico a dirlo Proprio questo È normale che le altcoin Facciano il 70 80 90 E in alcuni casi Pure il 99% Di correzione Ecco che per l'una È una situazione diversa Ma tutte le altre Cioè oggi Torchain Rune Ha fatto almeno 25% Dot ha fatto almeno 25% Sono monete Che poi tra pochissimo Andiamo a vedere Che stanno almeno 30% Oggi E che sono due settimane Che dampano Come una bestia Ci riferiamo a questo Mentre bitcoin Oggi ha fatto almeno 3 Sta ancora a 29.000 Un altro target Che vi avevo Largamente anticipato 30.000 28.000 Aspettavamo il prezzo Che arrivasse lì E vi abbiamo detto Se bitcoin Crascia Il mercato Delle altcoin Crascia ancora più forte Poi ovviamente Non c'è un rapporto 1 a 10 1 a 5 Dipende dalle condizioni Di mercato Se bitcoin Crascia del 20% Aspettati In meno 60% In tutte le altcoin Cioè per dire A meno 1 a 3 Ethereum Più o meno Regge bene Segue segue Una via di mezzo Tra BTC E andiamo a vedere Tra un po' Quanto ha fatto Entro subito Torniamo alle basi Dell'analisi tecnica Ma prima volevo fare Questa premessa Appunto Cogliendo l'occasione Di questo crash di oggi Che è soprattutto La gestione del rischio L'avevo detto Di non avere altcoin E spero che non abbiate Avuto altcoin Che non ne avete Ancora adesso Perché se BTC Appunto Il supporto serio È la media mobile A 50 periodi Sul grafico mensile Quella ancora sta A 26.000 Se BTC Fa un altro 3 4 5% Può essere che vediamo Un'altra giornata Da 20 Meno 20 Meno 30% Per l'altcoin Cioè Vuol dire Avere investito 100 euro O 1000 euro All'altime high Di 8 mesi fa 10 mesi fa Boh ma come ricordo Quando era Oggi ti ritrovi con 1 euro 5 euro 10 euro Nel migliore dei casi Con 20 euro O con 200 euro Dipende Se ne hai investiti 100 o 1000 O 10.000 O 100.000 Con alcune monete Oggi ti ritroveresti Con meno 99% Meno 95 Meno 90 Meno 85 Non è un rischio Che un investitore Con la testa sulle spalle Si prenderebbe mai Ecco perché Al primo incrocio Negativo Del MACD A tre giorni Molto Molto Tempo fa Ormai E vi dissi È ora di uscire Ma ora di uscire In tutto Da tutto Ho degli amici Che erano Particolarmente Affezionati A Luna E a Solana Solana troppo troppo Ma chi era affezionato A Luna E nel frattempo Non ha venduto Oggi si ritrova Con Zero Forse uno Da 100 Ho fatto più Del meno 99% Questa è la gestione Del rischio Cioè È una parte È una piccola parte Della gestione Del rischio Il distacco Che poi La gestione del rischio Nel mondo cripto Non è la gestione Del rischio Nel mondo Finanziario Analogico Quindi azioni Obbligazioni Cose a lunghissimo Termine Non è Materie prime Come l'oro Come l'argento Come il platino Che si muovono Come le balene Sono colossi Che si muovono Dell'1% A settimana Le cripto Ti tritano Se non sai Entrare Al momento giusto Ed uscire Al momento giusto E tra l'altro Questo è uno Dei momenti giusti Per comprare Però ovviamente Per avere il coraggio Di comprare Adesso Avresti dovuto Vendere A 70.000 Se non 70 A 69 65 60 55 Così che adesso Te ti saresti fatto Il bello short E rientri Con un po' Di capitale A 30 Se si scende A 26 Rientri Con un po' Di capitale A 26 Se dovesse Cresciare Ancora di brutto Fare un altro Meno 50% Arriviamo a 16.000 Vai all in A 10.000 Vai all in Però ovviamente Il coraggio Di fare questo Ce l'hai Se hai preso Profitti Molto 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 In alto Quindi Te lo puoi permettere Se invece Ti sei fatto Adesso Il meno 70% Di crash E dici Come fai Ad aggiungere Capitale A delle posizioni In perdita Così Ovviamente Poi entra In gioco Il dubbio L'incertezza E la paura Gestione emotiva Oltre a gestione Del rischio Sono la La terza slide Che abbiamo visto Sull'analisi tecnica Nel pdf Parla proprio di quello Gestione degli strumenti Dei rischi Delle emozioni E della propria attitudine Prima di qualsiasi Strumento tecnico Perché puoi conoscere Tutti gli strumenti tecnici Ma se tu non sei pronto A livello Mentale E a livello De core Cuore ad agio Quindi coraggio Di comprare al momento giusto E di vendere al momento giusto Non vai lontano Anche se conosci Tutti gli strumenti a memoria Anche se probabilmente Potresti spiegarmi Meglio di quanto Riesco a spiegarli io Il fatto Che contraddistingue Cioè distingue Un trader di successo Da un trader Che continua a perdere 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 Finché non viene sbattuto Fuori dal mercato Perché non ha più soldi Da investire Per riprovarci Questa è la mentale È la mentalità È la mentalità È del cuore ad agio Quindi raga scusatemi Ho preso un sacco di tempo Con questa premessa Vedo un attimo su Twitch Se ci sono delle domande Mi chiedono il pdf Dove lo possiamo trovare Il pdf non si trova più È una cosa talmente Tanto rara Che chi l'ha ricevuto È fortunato È il vantaggio Di averci seguito Sin dall'anno scorso È troppo di valore Questo pdf Cioè C'è voluto tanto tempo Per metterlo insieme E voglio dare valore A questo Non lo regalo più Perché mi rendo conto Di quanto valore abbia E quanto la gente L'abbia usato male Entro un attimo In condivisione Ma devo chiudertelo Alla Comunque vi potete fare Tranquillamente le foto O delle cose Indicatore MACD Ok Avevamo parlato dell'RSI Volete No Una rinfrescatina Sull'RSI Sarebbe molto molto lunga Perché l'RSI È Una delle parti più lunghe Passiamo al MACD Che poi l'RSI Lo vediamo in pratica Sul grafico Com'è la connessione Niche di Sì sì perfetto Non si blocca Funziamo tutto Ok Questo Cerco di Troppo Così Lo ingrandisco Così ci siete anche voi L'indicatore MACD È uno degli strumenti Di analisi tecnica Più diffusi E mostra la convergenza La divergenza Delle medie mobili Con una linea di segnale Praticamente Il MACD È uno degli strumenti Più utilizzati A differenza Della massa Cioè Non c'è problema Nell'utilizzare Gli indicatori Che utilizza la massa Se vengono applicati Su dei time frame Che non vede La massa Perché gli indicatori Applicati A Un time frame Che vedono tutti Da Sempre Falsi segnali Perché il mercato È fatto per inculare La maggior parte Della gente Quindi se tutti guardano Il MACD L'RSI Sul giornaliero Su un'ora Sui time frame Che sono gratuiti Su TradingView Che è lo strumento Che utilizzano Il 90% di persone Magari L'80 Al 75 Al 70 Alcuni utilizzano Atani Alcuni CoinTrader Alcuni altri Tipi di Visualizzatori Per grafico Ma se la maggior parte Della gente Guarda quei 5 6 10 Time frame Per far funzionare Questi nostri indicatori Basta utilizzarli Su dei time frame Più grandi O più piccoli O personalizzati Se hai TradingView Pro O Atani Te li puoi creare Non so se su Atani Te li puoi creare Però ce ne sono davvero tanti Atani è uno strumento Che abbiamo divulgato Grazie ad Alberto Che ci ha fatto conoscere In Rise Up Quindi avete La possibilità Di accedere Atani A-T-A-N-I Punto non mi ricordo Basta cercarlo su Google Non si devono attaccare Gli exchange Si può saltare Tutta la procedura iniziale Arrivare direttamente Al grafico Ed utilizzare Solo quella cosa lì È quello che consiglio io Tra l'altro È anche un ottimo sistema Per gestire i fondi Su più account Per averceli tutti In una piattaforma Software Sul computer Allora Quindi noi lo andiamo Ad applicare Su altri tipi Di time frame Tipo appunto Il due giorni Il tre giorni Il quattro giorni Il quattro ore Il sette ore L'otto ore Il dodici ore Il sei ore Grafici Al quale la maggior parte Della gente Non arriva Non può arrivare Perché appunto Dovrebbe pagare Una subscription E per questo E per questo funzionano I segnali Su questi time frame Perché appunto Li vendono Il 5% L'1% Delle persone Che non riescono Ad influenzare Il mercato tanto Quindi riusciamo A seguire Dei segnali Puliti Può essere usato Per identificare Gli aspetti Del trend generale Di un asset Ok Quando il nostro MACD Tre giorni In croce È positivo Noi sappiamo Che è abbastanza Un long term boom Nel 95% Dei casi Nel 5-10% Dei casi Si può trattare Di un falso segnale Che ovviamente Viene poi Scongiurato Da grafico A sette giorni Quindi a una settimana O sette di In particolare Il MACD Tramite il MACD Si può valutare Il momentum Di un'azione Di prezzo Ok Se il prezzo Sale E il MACD Scende Sappiamo Che quella salita Non ha il sottostante Di forza Per continuare Se invece Il MACD Sale E il prezzo Scende Sappiamo Che la discesa Non ha abbastanza Forza per proseguire Quindi probabilmente A un certo punto C'è un ribalzo Poi noi Tramite i vari Time frame Facendo la pratica Vi faccio vedere Come andare a Interpretare Il MACD Insieme alla direzione Del trend E la sua Durata Ciò che rende L'indicatore MACD Così utile E pieno di informazioni In realtà È la combinazione Di due diversi Tipi di indicatori Per prima Il MACD Si avvale Di due medie mobili Di lunghezza Variabile Diversa tra di loro Per identificare La direzione Del trend E la sua durata Poi il MACD Prende La differenza Dei valori Tra le due medie mobili La MACD line E una media mobile Esponenziale La EMA Delle stesse Medie mobili Quindi crea Una linea Di segnale E individua la differenza Tra le due linee Come un istogramma Che oscilla Sopra e sotto Ad un nitricentro Con valore zero Quelle barrette di volume Che vedete Verdi sopra Rosse sotto Sul MACD Quello è la linea Di segnale No scusate Quello È l'istogramma L'istogramma Viene visto dai trader Come una buona indicazione Circa la quantità Di momentum Di un titolo Quindi di un'azione Di prezzo La linea del MACD Media mobile Esponenziale A 12 periodi E la media mobile Esponenziale A 26 periodi Ecco qua Quindi si creano Praticamente La linea del MACD E la La signal line La linea di segnale È una EMA 9 EMA 9 Della linea Di MACD line L'istogramma Praticamente È la linea di MACD Linea di segnale Questo qua È l'istogramma Dove le candele Sotto Qua sono grigi Ma sarebbero rosse Sopra sono verdi Ce l'ho aperto Anche qui Quindi posso farvi vedere Un attimo Al volo Togliamo questo Ecco qua Queste sono L'istogramma Positivo Sono l'istogramma Positivo Poi sto col portatile Scusatemi Che il mouse Non ce l'ho Negativo E qua abbiamo Quella blu È la linea del MACD E quell'arancione È la linea del segnale Praticamente Noi andiamo ad utilizzare Sia l'istogramma Come indicatore Che gli incroci Sulle varie Che gli incroci E le azioni Che fa I movimenti Che fa il MACD Perché anche questo qua È un movimento Significativo Tanto significativo Come un incrocio Quanto un incrocio Anche questo qua È un movimento Significativissimo Perché quando vedi Il MACD Che riprende Slancio Sai che Sta per andare In posti molto molto più Più bui Più bassi Ad esempio In questa occasione qua Ad esempio In questa occasione qua Poi ovviamente Questo è un time frame A 30 minuti Quindi ve la sto a buttare là Ma sul time frame A 6 ore La situazione è molto più chiara Come vi dicevo L'altra volta Falsi segnali Ce ne sono davvero pochi Su 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 time frame Che utilizzano pochi Ok Quindi questo qua Era un falso segnale Ma quanto è durato Cioè Poi possiamo andare a vedere Appunto Rispetto al grafico Che cosa è successo Rispetto alle varie azioni Di prezzo Le entrate Possiamo fare Back testing Di tutto Di tutto E di più Tornando un attimo qua Come si usa il MACD Rimpicciolisco un pochino Un'interpretazione generale Del MACD Può essere La seguente Quando il MACD È positivo Il valore Dell'istogramma È in aumento Il momentum Rialzista È in aumento Ok Quindi spinge L'azione di prezzo A salire ancora di più Quando il MACD Invece è negativo E il valore Dell'istogramma Diminuisce Appunto Scende la curva Dal verde Verso il rosso Il momentum Ribassista Si sta rafforzando Quindi probabilmente Se il prezzo Sta salendo E ha trovato Un local top Probabilmente C'è una correzione Ecco qua Che incrocia Il MACD Scende l'istogramma Nel rosso E qua abbiamo La correzione Ecco tramite il MACD Noi riusciamo ad anticipare Di qualche giorno Qualche ora Queste azioni di prezzo Quindi ci ne possiamo Avvantaggiare L'indicatore MACD È in genere Buono Per identificare Tre tipi di segnale base Crossover Della linea di segnale Appunto Quella blu Che incrocia In positivo O in negativo Quella arancione Quando Ovviamente La blu Sta al di sopra E sale È positivo Quando scende E incrocia In negativo È negativo Crossover Della linea 0 Che è la linea 0 E questa qua La zero line Questa qua Dal quale parte L'istogramma Che è quindi Quando il MACD È positivo Che sale sopra La linea 0 È ancora più positivo Perché viene considerato Anche questo Come un livello Di resistenza O di supporto Infatti qua Vedete che Il MACD In questo caso Si è appoggiato Sulla signal line E poi ha ripreso A salire Ha rimbalzato Viene preso anche Come supporto E come resistenza Ops Senza Senza mouse È un casino Il crossover Della linea di segnali Ve l'ho già spiegato Ma questa è la definizione Diciamo I segnali di acquisto E di vendita Si avranno per lo più In caso di crossover Tra le medie Si avrà Un segnale Rialzista Quando la linea Del MACD Incrocia A rialzo La linea di segnale Viceversa Si avrà Un'indicazione Ribassista Quando la linea Di MACD Incrocerà A ribasso La linea di segnale Tanto più L'incrocio Sarà veloce Tanto più Il segnale Risulterà affidabile Crossover Della linea 0 Il segnale Di crossover Della linea 0 Ha Una premessa Molto simile Al segnale Precedente L'incrocio È meno Comune Dell'incrocio Con la signal line Dato che Appunto Le due medie Si possono incrociare Diverse volte E si avrà Quando la linea Del MACD Incrocerà A rialzo Segnale long O a ribasso Segnale short La linea 0 Ok La nostra linea 0 Da dove parte L'istogramma E divergenza Tanto spesso Mi sentite parlare Anche di divergenze Aspetta Chiudo un attimo Telegram Se no continuano Ad arrivare Messaggi Spesso e volentieri Mi sentite parlare Di divergenza Tra prezzo E il MACD Perché se l'azione Di prezzo Segna dei massimi Più alti E il MACD Invece scende Allora significa Che il momentum Sta finendo E quindi il prezzo È arrivato al top E sta per scendere O al contrario Quando il prezzo Scende 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 Il MACD Invece sale 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 Vuol dire Che quella discesa Sta per finire La divergenza È un altro Ovviamente È molto più significativo Avere una divergenza Sul tre giorni Piuttosto che Sul sei ore O sull'un'ora O sul trenta minuti Perché una divergenza Sul trenta minuti Vale zero Durante un downtrend Vale davvero zero Perché il mercato Delle cripto È dirompente Sia a rialzo Che a ribasso Quindi i segnali veri Li vediamo Sui time frame Più grandi Questo Il MACD È una strategia Buona Da utilizzare A medio termine Breve termine Per chi arriva Dal mondo Della finanza Analogica Ma a medio Lungo termine Per chi è Nel mondo Delle cripto Nel quale Vendere e comprare Una volta a mese È medio termine Quasi lungo Cinque trade Dal giorno È a medio termine Diciamo Nel mercato Delle cripto Quindi Noi I segnali veri Li riceviamo Dai time frame Più ampi Perché appunto Ci evitano Falsi segnali Rumori Disturbi E tanta altra roba La divergenza È un altro segnale Creato Dall'indicatore MACD In poche parole Esattamente come L'arressai La divergenza Si verifica Quando l'andamento Del MACD E quello del prezzo Non corrispondono Uno fa una cosa E l'altra fa l'altro In un modo O nell'altro Una divergenza Rialzista Si verifica Quando il prezzo Registra una serie Di minimi decrescenti E quindi scende E quindi scende Mentre il MACD Segna una progressione Di minimi Più alti Quindi sale 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 Divergenza Ribessista Invece è il caso contrario Rispetto a quella Descritta prima E si verifica Quando il prezzo Registra una serie Di top Uno più alto Dell'altro E mentre il MACD Invece fa uno Più basso Dell'altro Ci sono domande Riguardo al MACD Cioè Possiamo un attimo Anche Vederlo Se ci sono domande Scrivetele su Twitch Le leggo tra Tre minuti Buonasera a tutti Comunque nel frattempo Bellissimi Ricaccio BTC A lungo termine Sul grafico A 6 ore Già mi salta all'occhio Una cosa Una cosa Che vi ho detto È significativa Tanto quanto Un incrocio Ok Questo rigetto Ma volendo Qua potrei mettere Il grafico Ad 8 ore Guardate nell'utilità Vedi A 6 ore Questo segnale È sporco Perché Per due Candeline Dell'istogramma Si è incrociato In rosso E poi invece Ha continuato A salire Ok Quindi era una cosa Che poteva farti Disorientare Poteva farti Confondere Se io aggiungo L'8 ore Tra i miei grafici Lo metto come preferite Così lo abbiamo qua Questo falso segnale Probabilmente scompare Oh Internet lento Spengo la telecamera E infatti Vedi Di questo falso segnale Adesso non c'è più Il 6 ore È un grafico Utilizzerò ancora in tanti Vedi Qui ci sono vari Falsi segnali Che si puliscono Però con il grafico 12 ore Ok Prendiamo 12 Ore E aggiungio Aggiungio il 12 ore Come preferito Abbiamo qua Probabilmente Questi falsi segnali Non ce ne sono più Oppure Sì no Ci sono ancora Perché comunque Era abbastanza piatto L'andamento Allora Non ci saranno più Sul giornaliero O sul due giorni In questo modo Noi scalando Da un time frame All'altro Riusciamo a vedere Che cosa è successo Non mi ricordo più Qual era il momento In tempo Che stavamo guardando Quando è che stavamo guardando Stavamo guardando Il 24 aprile Al giornaliero Il 24 aprile 24 aprile Eccola qua E' questa azione di prezzo qua Vedi sul MACD Invece continua A scendere 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 Sul giornaliero Scusa Sul daily Tornando indietro Questa cosa Che sta facendo BTC adesso Ok Quindi Riprendendo Slancio verso il ribasso Dopo aver provato Ad incrociare La media mobile L'arancione Quindi la linea di segnale Adesso sta riprendendo Momentum Beh Questo potrebbe portare La discesa Ancora più bassa Ancora più giù Ok Come ogni volta Che viene appunto Rigettato A rialzo O a ribasso Un altro esempio Ve lo posso portare qui Un altro esempio Ve lo posso riportare qui Altri esempi A voglia Quante fine stanno Basta andarli a cercare Ok Quando si baciano Le due linee E inizia a riprendere Momentum Un'indicazione Di continuazione Poi non sappiamo Per quanto tempo Continua Ma questo non ci interessa Tanto noi dobbiamo Aspettare fuori Senza fare niente Meno fai E più fai Meno fai Più fai Fai Tre secondi Meno fai Più fai Se questo mantra Imparerai Di successo Tu sarai Ne? Che fila stroke Questa segnate Allora VTC BLX BLX A tre giorni Com'è il MACD Adesso Il MACD Adesso È un Disastro È un Disastro Perché Nel senso che La linea blu È molto Lontana Dalla La linea di segnale L'istogramma Sta ancora Aggiungendo momentum A quest'azione di prezzo Che è l'azione di prezzo Come target Ricordiamolo Ricordiamolo Se questa era L'ampiezza Della prima azione di prezzo Impulsiva Cinque onde Elliot Che vedremo Non so se stasera O mercoledì prossimo Dopo questa Dopo questo pattern Di continuazione Che ormai conoscerete Ok Uno Due Tre Quattro Abbiamo un Double top Double bottom E All'interno del canale Ma questo poco conta La fuoriuscita Da questo canale Porta a una Continuazione Dell'azione di prezzo Ok E il target È questo È Più o meno questo Perché sono in grafico logaritmico Un po' viene distorto Ma il grafico Cioè È più o meno 22-23 mila dollar E se la maggior parte Delle altcoin Stanno almeno 30% E BTC Ancora deve scendere A 23 Vuol dire che Le altcoin Possono fare Un altro Meno 50 Meno 60% Non sto scherzando Non è neanche difficile Immaginarselo Voi l'altro ieri Ve lo sarete Se lo sareste immaginato L'altro ieri Sì l'altro ieri No questi No 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 Settimana scorsa Cioè voi A questo punto qui A questo punto qui Vi sareste potuti immaginare Che oggi questa moneta Avrebbe fatto Almeno 25% Tenete presente Che potrebbe accadere Ancora domani E dopo domani Ovviamente un asset Non può Crollare all'infinito Ci sono livelli Di supporto Psicologico Psicologico E di prezzo Di volume Di acquisti Ci sono rimbalzi Di speculazione Ad esempio Vi posso fare vedere Piccolo time frame Di luna Ad esempio Ad un'ora E ci sono vari rimbalzi Cioè BNB Quanto ha fatto BNB Meno 15% Meno 14% Ethereum Ma quanto sta oggi Meno 9 Vedi ovviamente Le più grandi Sono quelle che si muovono Più lentamente Ma stessa storia Per Ethereum Noi stiamo aspettando E non so Da quanto tempo Ve lo dico La camera è sempre stancato Perché poi diventa Ripetitivo Cioè Stiamo aspettando Ethereum A 1600 dollari Più o meno Eccolo qua Esattamente a metà Del box Cioè È pure strano Che più o meno L'ampiezza coincide Con una cifra tonda Come 1600 dollari 1595 Ma dipende Da come lo pensate io qua Cioè Questo è Lo schema generale Delle cose Siamo anche usciti Da questa wedge In salita Il target Di solito È l'inizio Della wedge Dove Ethereum Ha supporto Quindi questo Adesso Ovviamente Potrebbe fare Un movimento Di questo genere Prima di arrivarci Ok Esattamente Come ha fatto Anche qui Grandi crolli E piccoli rimbalzi Grande crollo Rimbalzo Grandissimo crollo Beh Potrebbe rifare Una cosa del genere Assolutamente Sì Qui abbiamo Un crollo Potrebbe esserci Un rimbalzo Un altro grande crollo Un rimbalzo Un altro crollo Ancora Assolutamente Sì Ma anche questa Un'onda correttiva È composta Da Da tre onde macro È da andare a capire Se uno Due Tre Quattro E cinque Se rifanno altre cinque Mosse impulsive Perché questa sarebbe La uno Questa sarebbe La due Avresti la tre La quattro E magari anche la cinque E arriveremo a mille e cinque A quest'altro supporto Questo può essere Che hai L'impulsività di un'onda Contare sempre cinque onde Trova sempre il modo Di contare le cinque onde Cinque onde impulsive Tre onde correttive Beh se siamo in downtrend Queste sono cinque onde A ribasso Uno Due Tre Al rialzo Tre onde correttive A B C E poi hai di nuovo Uno Due Tre Quattro Cinque Possiamo anticiparle Tutte queste cose ragazzi Cioè penso di avervi È brutto dirlo Ma penso di avervi Dimostrato che l'analisi tecnica Che il grafico regna Al di sopra di qualsiasi news Al di sopra di qualsiasi rumor Al di sopra di qualsiasi dubbio E di incertezza L'analisi tecnica Se la sai usare Se la sai fare Regna Perché Il mercato si comporta In base al prezzo E a quello che le persone Pensano di un'azione di prezzo Psicologia di massa E il mercato È questo grande organismo Che noi creiamo Tutti insieme Ogni giorno che guardiamo Al grafico Con le nostre emozioni Con le nostre azioni Noi creiamo i cicli Di crescita E di decrescita I cicli di correzione I cicli impulsivi Al rialzo Che dici Nino Nino staccato C'è qualche Allora Giustamente Mi tocca leggere un attimo Le domande Mi ero dimenticato Perdonatevi Per riguardo un attimo Io provo a leggerli tutti Ma Ci stanno talmente Tanti Talmente tanta roba Di stime elements Che può essere Ogni tanto qualcuno Me lo perdo Lo salto magari Ciao Dani Bella Bella Donny Bella insuccia È davvero un tesoro Questo pdf Eh sì Grazie per esserti Abbonato Dani che cosa ne pensi Di Ada? Ma adesso ti faccio Vede Ada Non ti preoccupa Un rimbalzo Del gatto morto Ma se oggi Non ho venduto Le altcoin Meglio aspettare Un rimbalzino Prima di vendere Per sciostare Assolutamente sì Assolutamente sì Assolutamente sì Allora Allora Ada Usdt Guarda la situazione La stessa per tutti No Usdt Sì dai Usdt Si può fare Ada è davvero Tanto penosa Io Non è che detesto Ada Però È davvero Debole come moneta Cioè Mentre la maggior parte Delle monete Hanno fatto Una flat correction Di continuazione A rialzo Ada l'ha fatta A ribasso Cioè Se hai questa Come uno Forse due qua O due qua Uno Due Tre Quattro Cinque Qua hai la correzione A B C O forse no A B C A B È una cosa del genere Eccola Probabilmente la prossima Prendere come intera Questa mossa Questa mossa qua Anticipandovi Già l'Eliot Che ancora non vi ho spiegato In questo nuovo ciclo Possiamo fare Una cosa del genere Per cui Poi hai la correzione A Adagardino 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 Investo in Ethereum O piuttosto in X O Y Ma sempre che Le altcoin Adagardino Solana Ripple Sono altcoin Le altcoin Sono da comprare Solo per speculazione A breve termine Tutto il resto È BTC BTC e forse pure Ethereum BTC Però BTC Appunto Fa il meno 3 Il meno 4 Ethereum Fa il meno 10 Il resto del mercato Fa il meno 20 Meno 30 Meno 40 Meno 90 Capite il concetto Penso di averlo spiegato Cioè ripetuto Abbastanza E qui Il messaggio Che voglio passare È abbastanza Debole Molto Debole Se prendiamo L'estensione Cioè questa Questa estensione Qua Fino ad inizio Correzione Che potremmo indicarla Qua O qua O qua Cioè più o meno Questa percentuale Qua Se faccio Copia e incolla E la piazzo E la piazzo Quaggiù All'inizio Della discesa Eccola qua Siamo quasi vicini Al target 45 centesimi 45 centesimi Di target Se 45 centesimi È anche in linea Con qualche Particolare Supporto E resistenza Ad esempio Questo qua È un supporto Per cui c'è stata Ah ecco 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 Questo era il precedente All time high Di Cardano Questo qua Era il precedente All time high Di Cardano Che allora A questo punto Potrebbe anche essere Una cosa così Però appunto Cardano Dato che non ha fatto La flat correction Infatti Questo coincide Come il livello Ho semplicemente Esteso Ok Quindi la correzione Potrebbe essere Di questo ABC Ok Questa piccolina qua Questa è la correzione In fin dei conti Eccola qua 1 2 E 3 Hai un doppio top Doppio bottom In discesa Per cui Continuazione Da questo punto Ci porta qua 38 centesimi Più o meno 39 centesimi Ovviamente Se ti sei fatto Tutta sta discesa Ok Perché hai comprato qua E non hai avuto Le palle Di vendere Su nessun rimbalzo Ti conviene Vendere adesso No Cazzo Potrebbe andare Pure a 10 centesimi Cioè Tranquillamente Potrebbe arrivare Pure a 15 centesimi Ma piuttosto Aggiungi 50 euro Aggiungi 100 euro Aggiungi 100 euro Aggiungi 200 euro E fatti il dollar coste E inizi a fare Le cose fatte bene Così che la prossima Volta che sale Sei in profitto E puoi vendere Vendendo 10% 10% 20% 20% 40% E sei uscito fuori Con un dollar coste Hai applicato Una strategia intelligente Per cui Ti dovrebbe riuscire Un trade Di successo E neanche di poco successo Perché Metti caso che Che ne so Mettiamo caso che Cardano Fa il bottom qua Ok A 30 centesimi Per tornare all'all time high A un 700% quasi Hai Se duplicato Il tuo capitale Non facendo neanche tanto Forse qui in duplicato Perché compri Dollar cost average Sei già in perdita Però se aggiungi Tanto e quanto capitale Poi ovviamente Se ci hai messo 10.000 euro E ti sei fatto Tutta la discesa E stai almeno 83% È difficile Trovare altri 10-20-30.000 euro Per recuperare La posizione Lo comprendo Però Di quei 10.000 euro Te ne sono rimasti 2.700 Se hai fatto Il meno 83% In altri 2.700 Li puoi aggiungere O se non li puoi aggiungere Perché non li hai Vuol dire che Eri troppo esposto Senza un senso Perché La teoria La logica Strategica Di base È avere sempre Abbastanza capitale A disposizione Per recuperare Una posizione Questo ce lo insegna L'up and down Base 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 Avere sempre Almeno il 50 60 70% Di riserva Di capitale Nel caso Qualcosa vado storto E puoi comprare Più basso Con il doppio Della somma Recuperare La posizione Al primo rimbalzo Alla prima tendenza Rialzista Vendi Poi questa tendenza Rialzista Come la becchi Con McD Vediamo un attimo Sul mensile Dove sono le medie Mobili L'ha già rotte Tutte le medie Ma no Forse Forse Non è abbastanza Storico Probabilmente Non è abbastanza Storico Sarebbe da vederlo Forse sul Buon Puno No Su Binance No Ada USD Su Coinbase Da quanto tempo Troppo poco Andiamo a vedere Uno di Kraken Neanche Kraken Eh ma perché È uscita comunque Nel 2018 Non c'è più Storico di questo Però forse Sul settimanale Ma già sul settimanale L'ha incrociate tutte Vedi adesso Che parlavamo Di Death Cross E Golden Cross Nella lezione scorsa Delle medie mobili Vedi Questo È l'inizio Del Death Cross Quando la linea gialla La media mobile È più veloce La 21 Incrocia quella più lenta Ossia la 100 Sul grafico settimanale Il Death Cross Vero e proprio È tra 50 e 100 Ok Oppure 50 e 200 Quello è il vero e proprio Death Cross Che poi è soggettivo Quale sia il vero e proprio Death Cross Questo è già un Death Cross In sé per sé E di solito Sul Death Cross Si rimbalza Ok Quando incrociano Tutte le medie In negativo Vuol dire che è finita La discesa Al contrario di quello Che pensa la maggior parte Della gente Perché la maggior parte Della gente Guarda il Death Cross Sul grafico settimanale Mensile Giornaliero Non sul tre giorni Non sull'otto giorni Penso che sia un concetto Molto molto facile Se hai comprato Delle monete Che stanno scendendo A bestia Aspetta che finiscono Di scendere Aspetta che Il MACD A un'ora Torna positivo Aspetta che Il MACD A un'ora Torna positivo Che poi torna positivo Pure il tre ore Ok Ma qua C'è il momentum Ribassista Potrebbe fare una divergenza Sì ma non ci credo Cioè è più probabile Che il prezzo arrivi a supporto O che il prezzo Rimbalzi adesso Non ha senso Non vedo nessun rimbalzo In vista È più probabile Che arrivi qua E magari torna A questi livelli qui Sul quale ha consolidato Un pochino Possiamo vedere Quanto ha consolidato Cioè questo è un livello Di supporto Questo era un livello Di resistenza Beh se Cardano Arriva a supporto Qui Ok Senza In linea retta Senza creare Troppa roba Perché se fa così E poi scende Sulla strada del rialzo Avrà resistenza Qui Ok Quindi Se qua fa così E poi scende E poi risale Si fermerà A questo livello Scenderà di nuovo E prima di rompere Il rialzo Semmai dovesse rompere Il rialzo Imminentemente La cosa che volevo Farvi vedere È il momentum Di BTC Tieni Il meno 6% BTC E la Bitcoin Dominance Il DXY Guarda Questa è la Bitcoin Dominance Un'altra cosa Che abbiamo Anticipato Da un sacco Di tempo Era la rottura Di questa Trendline Abbiamo detto Se Dovesse Rompere In positivo E Il MACD Dovesse Seguire E L'azione di prezzo È al di sopra Della media mobile A 21 periodi Che è questa gialla qua Allora è tutto bullish Vuol dire che BTC Continuerà a regnare Contro le altcoin Che se Il mercato Continua a crollare BTC Crollerà di meno Delle altcoin Ed ecco che Guadagna La dominance La percentuale Di dominanza Sul mercato Perché Anche se Il mercato Delle cripto Arriva a Mezzo Triliardo Di dollari Adesso sta A 1 E 274 Miliardi Un triliardo E 274 Miliardi Fai caso Che questo Deba arrivare Che ne so A 750 Tutte le altre Cioè la maggior parte Del capitale Viene perso Nei piccoli progetti Piccoli progetti Che sono piccoli Per modo di dire Perché 8 miliardi 10 miliardi Cioè sì Piccolo Nel mercato azionario È poca roba Nel mercato Delle cripto È grosso Ok Cioè Vuol dire che Mentre appunto Che ne so Guarda qua Settimanalmente 7 giorni Guarda Quante cripto Della top 100 Hanno perso Intorno Cioè più Dell'80% Poche dai Solo l'una Più del 60 Abbiamo Apecoin Phantom Stepney Più del 50 Gal E questo è solo Nell'ultima settimana Se potessimo vedere Negli ultimi 30 giorni Vedreste un disastro Tutte più di meno 80% Più o meno E 70 Adesso il BTC È a resistenza Comunque Ok Ecco qua La media mobile Vediamo un attimo Se nei prossimi giorni Potrebbe rientrare Un po' di capitale Nel real coin Magari appunto Rimbalzare il prezzo Del real coin Per poter ritestare Il supporto E poi magari Ci sarà una continuazione Livello di resistenza Supremo Ragazzi È questo Intorno Intorno a questo Intorno a questo Perché qui abbiamo Diversi Week Diverse ombri Di candele Che rompono A rialzo La linea Qui abbiamo Il picco A questo livello Che è quindi Il picco più recente È quello più importante Quindi ci aspettiamo Resistenza Dove? Sul picco Più recente Anche se qui Ha fatto una candela Di sotto Abbiamo diversi False uscite E l'ultimo picco Invece È a quel livello Quindi quello Che ci possiamo Aspettare È o BTC Tira dritto Qua O BTC Fa una cosa Del genere Potrebbe tranquillamente Arrivarci qua Questo adesso È il livello Di resistenza Adesso è supporto Qua e resistenza Qua Quando BTC È sceso Qui È sceso In modo Molto lineare Quando BTC È sceso Qua È sceso In modo Molto lineare Quando BTC È salito È salito In modo Molto lineare Cioè la maggior parte Della resistenza La maggior parte Del trading Ce l'abbiamo Intorno a questo Livello qua Ok Dove Il prezzo Ha avuto resistenza Supporto Due volte Resistenza Un'altra volta Resistenza Un'altra volta Resistenza Un'altra volta Resistenza Un'altra volta Ma tra In tutto Questo spazio Qua Non c'è niente Di resistenza Quindi se BTC Riesce a rompere Questo Che ho cancellato Questo pivot point Cioè Questo Questo punto cardine Se BTC La dominance Di BTC Riesce a salire Al di sopra Di questa linea Per arrivare Da qui A qui È un attimo Perché Per arrivare Da qui A qui È stato un attimo Per tornare giù È stato un attimo Per arrivare Da qui A qui È stato un attimo Per arrivare Da qui A qui È stato un attimo Per arrivare Da qui A qui È stato un attimo Non c'è Tanto trading Qua in mezzo Ok Quindi tra questi Due livelli La dominance Di BTC Riesce a rompere I 44 E 6 Se riesce a romperli Ovviamente Il mercato Vuol dire Che continua A scendere BTC Arriverà Prima a 26 Poi magari Anche a 23 22 Poi dobbiamo Vedere Magari Se non arrivi Anche a 16 Come abbiamo Sempre anticipato Potrebbe essere Sempre che Per qualche giorno Il prezzo Di BTC Crescia Davvero Perché Quello che Stiamo vivendo Al momento È la distruzione Delle valute Fiat L'euro È finalmente Arrivato A 1,05 dollari Un euro Vale 1,05 dollari Quando Era 1,20 1,30 Se non di più 1,50 L'anno scorso Mi conveniva Averci gli euro Quest'anno Mi conviene Averci i dollari Perché l'euro Si sta svalutando Un casino Rispetto al dollaro Gap sul mercato Dei futures Di solito Quando si verifica Un gap Vuol dire Che degli ordini D'acquisto Non sono stati Non sono Scattati Di solito Questi gap Vengono chiusi Nel senso Che qui C'è un gap Anche se Piccolo Ma questo Ci indica Che eventualmente Ad un certo punto Il prezzo Di BTC Tornerà qui A chiuderlo BTC Per assurdo Adesso Che è arrivato A 30.029 E che questo È storico Supporto Storico Supporto È supporto Adesso Che siamo A 30.000 Qui potrebbe Rimbalzare E tornare A chiudere Il gap Prima di Continuare La discesa La butto Lì È sempre Tutto Teorico È probabile Ma ricordate Il fatto che 1 2 3 4 E 5 Sono sempre 5 onde Impulsive Poi dipende Da noi Come le leggiamo Quanto siamo bravi A leggerle E anticiparle Ovviamente Abbiamo bisogno Di conferme E di aspettare Questa 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 Potrebbe Potrebbe Essere L'eventuale 1 L'eventuale 2 L'eventuale 3 L'eventuale 4 Chiudere Il gap E L'eventuale 5 Ovviamente Di solito La 5 Non è Più Lunga Della 3 Vediamo Come va a Finire Ragazzi Però Per adesso È ancora Tutto Molto Bearish Il 3 Giorni È Bearish Il Prezzo È Al Di Sotto Della Media Mobile L'21 Il Prezzo Potrebbe Pure Fare Così Ok Non Ce ne Frega Una Mazza Perché Sappiamo Che Il Trend È Ancora Bearish Poi Se Continua Ok Però Dopo Un Crollo Del Genere Non Vi Aspettate Che Domani Mattina Siamo A 20 Se Dovesse Perché Il Vero Supporto Sta Intorno Ai 26 23 30 È Un Supporto Storico Ormai Che Regge Da Due Anni Ma La Storia Ci Insegna Che Questi Livelli Possono Anche Essere Tagliati Come Burro In Condizioni Di Paura Estrema Di Panico Di Mercato Dall'altra Parte Noi Dobbiamo Considerare Dato Che Diciamo Sempre Che L'S PX Il Dow Jones L'Indice Dei Trasporti Guardate Questi Sono I Miei Disegnetti Di Aprile Di Pasqua Accurato Tolgo Un attimo I Disegnetti Di Pasqua Ma Dai Serve Mensile Cioè Se Accade Questo BTC Potrebbe Arrivare A Diecimila Ok Se Accade Questo Che È Quello Che In Teoria Ci Aspettiamo Che Accada Perché Dopo Un ciclo Di Cinque Onde Elliot Sul Mercato Azionario In Un Cazzo Di Secolo Intero Che Sto Ciclo Elliot È Infinitamente Lungo Ci Aspettiamo Dieci Vent' Anni Di Correzione Ovviamente BTC Non dovrebbe Correggere Per Dieci Vent' Anni Ma Per I Primi 70 90 120 Giorni Sì Poi Dopo Se Stacca Prima Segue L'andamento Del mercato Azionario Poi Storicamente Si distacca E continua A vivere Di vita Propra Però Se Questo Accade Non Escludete Il Crollo Più Grande Che Abbiate Mai Visto Soprattutto Se È Poco Tempo Che Siete All'interno Dei Mercati Finanziari Digitale Che Analogico Ok Cioè Questo È Un Po Assurdo È Un Po Assurdo Che Il Mercato Azionario Faccia Un Crash Del Genere Del 70% Dell'80 Del 90% Ma Vi Faccio Vedere Una Cosa A Supporto Di Questo Nel Lontanissimo 1928 Ci Fu Quella Che Chiamiamo La Grande Depressione La Grande Depressione Se Riusciamo A Vederla Un Poi Meglio Questa Grande Depressione Dove Tutti Erano Felici Devo Tornare Indietro Agli Antipodi Della Storia Eccola Qua Me la Deve Caricare Mamma Che Veloce Internet Mamma Me l'hai Staccato Carichiamolo Scusa Nero Daniel Ti Si è Fezzato Sicuramente Ha problemi Di Connessione Aspettiamo Che Daniel Raggiunga Di Nuovo Forse Forse Ci sta Riuscendo Facciamo La telecomenda A Daniel Certo Jimmy 70 giorni Su 10-20 Anni Sono Niente Non avremo Nulla da fare E saremo E saremo Felici Aspettiamo Daniel Staccato Di Nuovo Un attimo Vediamo Se riesce A Ricollegarsi Ciao Giro Giro 53 Ciao 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 Dovete Godere Questo Splendido Esemplare Di Manzo Nato E Cresciuto In Sicilia Nell'attesa Che Il Signor Daniel Ci Raggiunga Vediamo Cosa Si Dice In chat Dai Io Devo Fare Analisi Pat G Io Posso Fare Analisi Delle Sassicce Nella Dello Stinto Di Maiane Nel Dei Pesci Dei Gabbenoni Stavose Tutta Ma di Criptone Massimo Poco Sto Cercando Di Imperare Mi Sto Impegnando Tantissimo E Spero Di Riuscirci Ciao Felmanga Daniel Lo sa Che La Presa Brutta Con La Connessione Ma L'avete Visto Il Camper Di Daniel Bellissimo Tutto Fatto In Bello Bello Ecco Daniel Rientrato Aspetta Aspetta Che Lo Mettiamo Eccolo Qua Daniel Ci Sei Vediamo Se Riusciamo A Di Collegamento Forse Si Forse No Eccolo Qua Bene Non Ti Sentiamo Sì Si Aspetta Che Adesso Adesso Ci Sono Perdonate Sarà Scaricato Il Telefono Con Il Quale Ero Connesso Ad Internet Eccoti Qua Ti Vediamo Ti Sei Ti Sei Pare Di No Concludo Belli Concludo Belli Non Avremo Niente Saremo Felici Assolutamente Sì Consigli Luna Lotturni Di fare Un viaggio Sulla Luna Sì Fate Un bel Viaggio Sulla Luna Vediamo Le Ultime Due Cose Appunto Vabbè Era un meno 86% sul mercato azionario durante la grande depressione Meno 86% dal top che abbiamo avuto nel 2000 e di 21 Cioè Meno 86% ci riporterebbe a livello perfettamente a livello di supporto qui Cioè Questo è un livello di supporto Questo è un livello di resistenza Cioè Un altro livello di supporto Ok Questo era il canale nel quale era all'interno durante l'onda 3-4 2010-2008 Questa era una grandissima flat correction Ok Doppio top Doppio fondo Come ripetiamo sempre Come ci ha insegnato il gran maestro Zen Questa è una continuation pattern Ok Proveniente dall'alto A, B, C E continuando a rialzo Questo potrebbe riaccedere di nuovo Al contrario Ribasso sul primo O sul secondo Livello di supporto E fare una flat correction E poi continuare Ok Questo è possibile E questo ci vorrebbe davvero fino Cioè 2, 4, 6, 8 anni Vediamo Vediamo come va a finire Nel frattempo O le cripto diventano la valuta mondiale Oppure le cripto spariranno dalla faccia della terra Qual è più probabile Tra una e l'altra Che tutto il mondo degli smart contract Gira su Ethereum E comunque Bitcoin Lo standard dell'oro Del mondo delle cripto Quanto è alta la probabilità Che le cripto scompaiano? Bassissima Secondo me è molto poco Però esiste la possibilità Come esisteva la possibilità Di rompere questo canale a ribasso Questo canale a ribasso E' stato rotto Beh adesso sul grafico mensile Il prossimo supporto ragazzi E' questo 22.000 23.000 dollari Paccati ad oggi Ok La media mobile a 21 periodi Questo è il nostro target Lo vedete su ogni mio grafico Praticamente Penso Se non l'ho cancellato di tutti Ma quello è il target Sono tutti questi target E vediamo Sul grafico mensile È negativo Il grafico mensile Ha incrociato negativo Su questa candela qua Intorno ai 40.000 dollari Seguendo anche Solo il grafico mensile Il MACD mensile Che comunque è quello più lento Che è quello di incrociare più lento In assoluto Adesso sareste in profitto Su uno short Probabilmente del 20 30 40 50% Media mobile Mensile a 50 periodi E l'altro supporto Intorno ai 25 26 Siamo quasi Dobbiamo solo vedere Se riesce a rompere appunto Questo qua Dei 29 Se ci vuole tirare dritto Con una candela Mensile Chiude tra 20 giorni Potrebbe tranquillamente essere Quindi sul grafico settimanale Dobbiamo vedere se Magari non è questa settimana Magari appunto Fa un pump del genere E poi Va giù così Forse è un po' troppo Però poi ecco qua 21.000 dollari Potrebbe fare una cosa del genere Però Anche qui Sul grafico settimanale Non si leggono tanto bene le onde 1 2 3 4 e 5 Boh mi sembra strano Non ti leggono bene le onde Elliot Sul settimanale Però magari sul 3D Appunto è meglio Sul 3D L'abbiamo già contato Quindi 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 Oltre a questo C'era il DXY Che è l'indice del dollaro Che ha Come avevamo Previsto Anche questa Alla perfezione Alla perfezione Ragazzi È più perfetto di questo Non esiste Tirare una trend line Ok Su due picchi Tirare una trend line Su due picchi E vedere che poi Questa trend line Viene rispettata Alla perfezione Ma Sai che vuol dire La perfezione Alla perfezione È una soddisfazione Tremenda Assurdo Perché dopo la rottura Sappiamo che un asset Torna a testare Il livello di sopporto Ok Questo è il vero E proprio Retest Dopo il retest Si continua L'azione di prezzo In salita MACD è in positivo Vediamo L'RSI Se non è in ipervenduto L'RSI Potrebbe rimanere In ipervenduto Per tempo indefinito Eccolo qua Si è in ipervenduto Però appunto Potrebbe rimanere Potrebbe anche Iniziare a scendere L'RSI Iniziare a fare Delle divergenze Nonostante che il prezzo Continua a salire Il target Di quest'azione Di prezzo Del DXY Ok È una bull run È una vera e propria bull run A livello Qui verde Ovviamente Così come in salita Così come in discesa Ci sono delle correzioni Per strada Ci sono delle correzioni Per strada Ok Qui abbiamo L'onda 1 Onda 2 Onda 3 Onda 4 Onda 5 Questa è completa Poi da qua Può continuare Può riniziare A correggere Adesso che siamo All'interno di questo Breakout E la probabilità Pende al 90% Che il DXY Entro diversi mesi Magari appunto Entro 2023 Entro metà 2023 Possa arrivare Qui a questi livelli Magari anche prima Perché se vedi Come si muove il DXY Cioè a volte va anche In parabolico In iperbolico In dritto Per dritto Cioè se dovessimo Arrivare con questa velocità Ci arriveremo Entro febbraio Del 2023 Entro fine anno Del 2022 Vediamo quanto Velocemente Effettivamente ci arriva Però anche questo Il target è questo Prendi una trendline Dal picco basso Al picco alto La rimetti All'interno del canale E vedi che Più o meno Il target combacia Dollaro più Dollaro meno Poi ci è stata Contata pure l'espansione Cioè se prendo Questo qua Come il picco Che è un po' più Conservativo Ecco qua Che arriviamo Alla trendline Più o meno La supera di poco Però questo è il target 120 punti Per il DXY E ovviamente Se questo accade Questo è inversamente Correlato al mercato azionario E al mercato Dell'Ecrypto C'è niente da fare Cioè se questo sale Arriva qua BTC Viene distrutto Distrutto nel senso Potrebbe temporaneamente Arrivare anche a 10.000 dollari Questo è tanta salita Per l'indice del dollaro Nonostante che tutti appunto Dicevano che il dollaro è morto Il dollaro è morto Ah la crisi con l'Ucraina Questo e quell'altro Alla Russia Bla 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 Il dollaro è morto Sto cazzo il dollaro è morto Il dollaro regola il mondo E adesso lo vediamo Adesso lo constatiamo Questa è un'altra trendline A ribasso Che ha rotto Ok Connettere questi due picchi L'ha rotto Ha rotto tutto A rialzo Ha rotto tutto A rialzo Quindi potrebbe Anche ripetere Tutta questa azione di prezzo Arrivare pure magari Appunto a un livello Tipo questo Cioè A caso Proprio puramente a caso Perché tanto Non serve neanche Ma questo Dovevo tracciare Al contrario Ecco Queste sono le varie Porca vacca Che precisione Queste sono le varie Estensioni Fibonacci Cioè Se prendiamo Dal minimo Al massimo Di questa prima azione di prezzo Ok Onda 1 2 3 Ecco qua Che il target Del trendline Si appoggia Sulla linea Fibonacci Che è l'estensione 1.618 Che è quella più importante Che sta intorno A 124 Se io invece Di prendere Il picco più alto Prendo questi due Più bassi Si allinea Quasi alla perfezione Quasi alla perfezione Un po' più basso Della resistenza Questa qua Di questo picco precedente qua Sarebbe intorno Ai 119 dollari 119 dollari A qualcosa Quindi comunque Tutto punta verso lì E quindi Al contrario Nelle cripto Tutto punta verso giù E se prendiamo Una moneta a caso Davvero Davvero a caso Che può essere Però deve averci Un po' di storico Almeno per poterla analizzare Ma anche Rune Anche Rune È andata abbastanza su Da poterla Da poterla Da poterla vedere A ribasso Anche Rune Per dire Torchain Questo è supporto Cioè L'RSI è abbastanza basso Il MACD Sì Potrebbe scendere ancora Però poi Dobbiamo anticipare I segnali Con il giornaliero Con il due giorni Con il sei ore Andiamo a vedere Sul sei ore È tutto ancora negativo Ecco che Potrebbe essere Sia un buon punto Per acquistare adesso In dollar cost average Per farsi Un piccolo rimbalzo Un qualche tipo di scalp Di questo genere Magari prima che consolida E continua Vediamo poi appunto Che cosa decide Di fare il prezzo A questo livello Perché questo è un livello Importante Dal quale è rimbalzato Diverse volte Neanche di poco Rimbalzato di tanto Rimbalzato di poco Rimbalzato di tanto Adesso vediamo Se rimbalza E quanto rimbalza Se poco O tanto Ok Non è importante Capire solo Che adesso Sta al livello di supporto Ovviamente Nel momento in cui Tutti hanno panico E la paura È la cosa più scalpitante Nel mercato È il momento giusto Per comprare Anche se Qui non c'è divergenza Su niente Ok Non c'è divergenza Né su RSI Né su MACD Cioè Questo per assurdo Potrebbe fare Così Tornare di nuovo qua E finalmente Abbiamo la nostra Divergenza Sull'RSI Ok E poi da qui Magari Tornare a sfidare Questi livelli qua E abbiamo L'RSI Che arriva Alla linea zero E poi qua Questo potrebbe comunque Tornare giù E rompere definitivamente Ok Per darci un iper venduto Sul tre giorni E così via Perché comunque Noi dobbiamo guardare Al time frame più grande Questo potrebbe sembrare Quasi un mega testa e spalla Anche se non è un testa e spalla Perché questa qua È una wedge Questa è una triangolazione Se tiriamo questa linea Di resistenza A questa linea di supporto Vediamo il bene La vediamo chiaramente La triangolazione La vediamo chiaramente E ne possiamo anche Studiare il target Ok Quindi l'ampiezza Andrà triangolazione Meno 85% Se noi la andiamo Ad applicare Sull'ultimo Picco Meno 85% Porterebbe il prezzo Di Rune A 1,86 Un altro Meno 50% Da dove stiamo adesso 1,86 Fammi ci mettere Una trend line Che poi Tra qualche mese Vediamo se Rune è arrivato qua Tra qualche mese Ma può essere pure Tra qualche settimana Vediamo adesso Che succede Però comunque Io dico Questo è il livello Di supporto E a supporto Sarebbe giusto Aspettarci supporto Ok A livello di supporto Ti aspetti supporto Poi ovviamente Come aspettarti supporto Questo lo dobbiamo vedere Però Dobbiamo vedere Tutto un insieme di cose Le emozioni che proviamo Perché sono le stesse emozioni Che prova la massa Ok La nostra psicologia di massa È composta da tutte le nostre Psicologie individuali Che è quindi Quello che pensi Si riflette Anche nella vita Di tutti gli altri Qui iniziamo a vedere Delle divergenze Su dei Su dei time frame Molto piccoli Quindi ovviamente Questa divergenza Non è per niente Significativa Però Potrebbe Questo Ridare un attimo Vita al MACD In salita E finalmente Scastrarsi da qui Magari tornare anche A questo livello qua Che Ragazzi È tanto È tantissimo Cioè Questo è un 82% Ok Dopo un Quanto per cento Di discesa Per dire Da qua a qua Ha fatto il meno 40 Un 80% Per ritornarci Ok Queste sono le occasioni Che noi aspettiamo Short 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 E poi quando incrocio Il MACD in positivo Long E ti fai Quella piccola posizione Che sembra piccola Ma in realtà È più di quanto avresti fatto Con l'1% al giorno In 60 giorni Ti sembra piccola Ma questo Se lo fai per un anno Per due anni C'è anche il 20% E ti becchi tutte le discese Tutti i rimbalzini Le cose così Stai attento Ci fai soldi brutti Ovviamente Io adesso Aspetterei un attimo Su questa moneta Per dire Appunto per dirne un a caso Aspetterei un attimo Che il MACD a 6 ore Torni positivo Il MACD a 6 ore Eccolo qua È ancora ampiamente negativo Aspetterei che questo Torni positivo Farei magari Cioè Se fossi Se fossi io Ma non lo faccio Non lo faccio Perché l'incertezza E la discesa È talmente grande Che non lo faccio Però se dovessi fare Io comprerei 50 euro qui Poi se sale Un'altri 50 euro qua Se riscende Un'altri 50 euro qua Se risale O riscende O fa una cosa del genere Comprerei sempre 50-50 50-50 50-50 Fino a che magari Non arriva a 1000 Mi faccio il dollar cost average Ok Così che non devi Beccare il fondo perfetto Non devi avere paura Del fatto che scende Se scende Continua a comprare Continua a comprare Continua a comprare Però ovviamente Se Se Rune decide Di arrivare qua In una traiettoria retta Nei prossimi 12 giorni Ci lasci tanto capitale Questi sono tre giorni Addirittura Però Secondo me Qua un rimbalzo Ci sta Prima di proseguire Perché Quanto cazzo Vuole scendere Devi sempre dare Appunto Il trading È una partita Scacchi tra Bers e Buts Una mossa I Bers Una mossa I Buts Poi se I Buts Non sono forti Abbastanza I Bers Hanno il sopravvento E portano Il prezzo Ancora più basso Al contrario Quando si sale Una mossa I Bers Una mossa I Bull Se i Bull Sono più forti Una mossa I Bers E i Bers Sono deboli I Bull Porteranno il prezzo Molto più alto Adesso abbiamo La situazione inversa In cui i Bers Sono in controllo Ovviamente Macti a due giorni A tre giorni Ce lo dice Molto 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 Chiaramente Cioè Long Entrare Long 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 Per i prossimi 3, 6, 12 mesi Solo quando Il MACD rincrocia In negativo Su tre giorni Almeno il due Ovviamente Inizierà con il giornaliero Quindi noi possiamo Anticipare Questo con un po' di tempo Ok Bella ragazzi Io Vi mando Un bacione E noi ci sentiamo Mercoledì prossimo Domani sera In Master Con Alberto Stacco Buonanotte a tutti Ciao Daniel Buonanotte a tutti Grazie per essere Stati Ciao Grazie agli amici Di Twitch Per essere stati Con noi stasera Un abbraccio Grazie mille Ciao belli Buona serata E godetevi Il mercato Prendete ogni cosa Che accade Da adesso in poi Come esperienza Perché questo Vi dà Le conoscenze Che vi serviranno Tra due anni Per capitalizzare Sul serio Perché Non diciamo stronzate Un po' di esperienza Nel mercato Serve Tutti partono Da zero Quindi ovviamente Chi ha avuto successo È perché ha iniziato Prima di noi Ok Nessuna scusa Nessun Nessun Raggiramento È semplice Serve esperienza E questa di oggi Il meno 30% Su un altcoin In un giorno È un'esperienza D'oro Vale più Vale più Di un 300% In positivo In un giorno Questo ti insegna Gestione del rischio Dell'emozione Della mentalità Tutto Tutte le cose più importanti Bella ragazzi Buonanotte Buonanotte Daniel Ciao a tutti Grazie ancora Buonanotte Ciao 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 ciao